Spostate di 1800 chilometri a largo della città di Perth, le ricerche dell'aereo della Malahisia Airlines scomparso lo scorso 8 marzo con 239 persone a bordo. Le squadre di ricerca adesso sono tornate a fare riferimento ai dati satellitari iniziali per inquadrare la nuova area, dopo la perlustrazione via aerea delle zone dove si pensava fosse caduto il volo, mentre le ricerche sottomarine erano state dirette al nord per il rilevamento di suoni metallici, rilevamento che aveva fatto sperare in vano gli esperti e i parenti delle 239 persone scomparse che provenissero dalla scatola nera dell'aereo.